in una terra lontana lontana c'è un'isola magica che migliaia di piccoli adorabili pinguini chiamano casa ma ora le colpi hanno scoperto l'isola e i pinguini sono in pericolo la loro unica speranza è un cane giotto dove sei bello decisamente pasticcione giotto resterà confinato nella tua fattoria giotto non è pericoloso papà i pinguini sono quasi spariti se siamo sott'i dieci il mese prossimo il consiglio ci fa chiudere ci sarà un modo per spaventare le bambini che mi venga un colpo se mettiamo giotto sull'isola credo che proteggerà i pinguini non pensi che portarlo sull'isola sia un po rischioso devi rischiare se vuoi sgranocchiare sì 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 no no quest'anno ti rendi conto che se qualcuno lo scopre per giotto è finita un cane pasticcione fermate quel cane diventerà un eroe sembra che siamo in affari da un'incredibile storia vera giotto e di amicizia avete perso tutti la testa rischiare per sgranocchiare giotto mamma mia che schifo questo è bombardamento pesante giotto l'amico dei pinguini